ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi vi parlerò del jump start j star 6 della utri ricorderete che tempo fa ne ho acquistato uno l'ho comprato ve l'ho recensito il venditore ha notato la mia recensione ha visto che è stata molto seguita gli è piaciuta e mi ha proposto se volevo recensire anche quest'altro jump starter dotato anche di compressore vi ricordo che tutto quello che mi mandano ve lo faccio vedere solamente se realmente funziona nessuno mi costringe a parlarne bene anche se mi mandano un prodotto sono liberissimo di parlarne male se i prodotti non funzionano oppure rifiutarvi di recensirli tutti quelli che vi faccio vedere sono tutti i prodotti che testo che verifico che funzionino dopodiché ve li propongo altrimenti fare brutta figura e voi comprereste prodotti che non funzionano utri è un buon marchio ha sempre funzionato bene ma devo essere sincero tutti i jump starter che ho provato finora hanno sempre funzionato bene il loro funzionamento è semplice quindi tutti quelli che comprate funzionano bene poi possono avere più o meno caratteristiche costare più o meno essere più o meno costruiti bene diverse potenze eccetera però questi dispositivi funzionano praticamente tutti questo posta 99 euro a diverse caratteristiche un grande pannello led da questa parte la modalità compressore diverse uscite davvero un po un buon prodotto quindi guardiamolo da vicino e vediamo com'è fatto vediamo le varie funzioni eccetera però andata a guardare anche il link giù nel primo commento nella descrizione perché se riesco a farmi dare anche il codice di sconto potrete pagarlo meno del suo solito prezzo iniziamo allora innanzitutto utri come sapete un'azienda che produce jump starter la confezione sulla parte superiore l'immagine del prodotto con alcune caratteristiche molto rapide nella parte più in basso invece troviamo una descrizione con delle icone un pochettino più dettagliata abbiamo una corrente di spunto di 1800 ampere adatta anche per mezzi di grossa cilindrata il compressore integrato può raggiungere la pressione massima di 120 psi quindi otto bar il led nella parte frontale a tre modalità di utilizzo a due uscite usb più un adattatore per l'accendisigare dell'automobile ma che parola possiamo utilizzarlo come si utilizza l'accendisigare all'interno dell'automobile perché ha lo stesso tipo di uscita dalla parte opposta invece troviamo l'elenco di ciò che troviamo in dotazione quindi jump starter l'adattatore con le pinze per poterlo collegare alla batteria il tubo del compressore il cavo usb degli adattatori per poter gonfiare i palloni canotti salvagenti eccetera più un adattatore da utilizzare sempre con l'accendisigare dell'automobile per ricaricare lo stesso power bank adesso apriamo la confezione e guardiamo cosa troviamo al suo interno questa è la valigetta semi rigida all'interno della quale troviamo il prodotto con gli accessori troviamo il manuale di istruzioni scritto anche in italiano con tutte le varie caratteristiche e modalità di utilizzo nella parte più alta c'è questa cerniera con una retina all'interno della quale troviamo il tubo per quando lo utilizziamo in modalità compressore il caricatore per poterlo inserire all'interno dell'accendisigare della nostra macchina e quindi tramite questo spinotto ricaricare il power bank le due pinze a coccodrillo per collegarlo alla batteria più il cavo usb che è ancora collegato all'alimentatore perché l'ho utilizzato e quindi è rimasto collegato e nella parte più bassa troviamo il jump starter avvolto da questa spugna che lo protegge da eventuali urti vi consiglio di tenerlo sempre all'interno di questa valigetta perché purtroppo il jump starter non ha assolutamente parti in gomma che possono proteggerlo le uniche parti in gomma sono questi piedini zigrinati il prodotto comunque molto solido e robusto non ci sono scricchioli anche se provo a storcere in questo modo la plastica è molto robusta e ora guardiamolo per bene allora sulla parte superiore abbiamo questo pannello di controllo con un display centrale e alcuni tasti che ci permettono di attivare alcune funzioni da questa parte abbiamo il led sulla parte più in basso invece abbiamo le varie uscite gli ingressi per poter erogare e ricevere la corrente dietro questo sportellino in gomma con raffigurata l'automobile ci sono le uscite per poter collegare i due coccodrilli si accenderanno i due led e quindi ci consentiranno poi di poter avviare la macchina con la batteria scarica oppure senza batteria questo invece è l'ingresso per poterlo ricaricare con il cavo che viene dato in dotazione una volta inserito sulla parte superiore verrà indicato il livello di carica della batteria che attualmente è al 99 per cento questo è lo switch per poter accendere e spegnere il dispositivo quindi per poter utilizzare la torcia poter utilizzare il compressore potere utilizzare anche le uscite usb da 5 volt 3 ampere una volta spostato sulla destra infatti si accenderà il display che state vedendo un pochettino papo quindi rimuoviamo anche la plastica protettiva e guardiamolo in tutta la sua bellezza quindi questo è il display nel quale attualmente abbiamo solamente il livello di carica premendo però un tasto si accenderà nuovamente mostrandoci le varie funzioni premendo il tasto mod infatti possiamo variare dalla modalità usb quindi possiamo utilizzarlo come power bank oppure possiamo utilizzare il compressore e adesso vedremo entrambe le funzioni l'illuminazione si attiva mantenendo premuto questo tasto e quindi si accende questo grande pannello led che ci permette anche di variare le varie funzioni quindi ci permette di utilizzare la modalità sos la modalità lampeggiante oppure tornare fisso per poterlo spegnere basterà mantenerlo premuto per qualche secondo e si spegnerà allora possiamo variare il tipo di unità quindi psi chilopascal oppure bar e tramite i tasti più e meno possiamo decidere quale pressione dare a ciò che dobbiamo contare per poter erogare l'aria basterà mantenere premuto per qualche secondo il tastino con scritto air ovviamente poi monterò anche il tubo e successivamente proveremo a gonfiare delle gomme per poterlo spegnere quindi basterà premere nuovamente per qualche secondo lo stesso tastino e smetterà di erogare aria allora vediamo come si collega il tubo del compressore a questa parte filettata che va a inserirsi in questa uscita e si avvita semplicemente girando quindi non è necessario ruotare tutto il tubo ma basta semplicemente girare questa ghiera che coassiale al tubo che ci permetterà di fissarlo in modo saldo quindi si collega sulla valvola si richiude e si può erogare aria prima di iniziare a fare delle prove vi leggo le caratteristiche tecniche dichiarate nel manuale di istruzioni ha una capacità della batteria di 24.000 mAh una corrente di picco di 1800 ampere una corrente di partenza di 900 ampere uscita jump starter 12 volt la corrente dell'ingresso di ricarica 5 12 volt 2 ampere uscita usb 5 volt 3 ampere uscita presa d'auto 12 volt 16 volt 8 ampere il tempo di ricarica ovviamente dal livello minimo fino al 100 per cento e 7 9 ore il peso complessivo è un kilo e 3 e la pressione come abbiamo detto poco fa raggiunge massimo 8 bar è protetto da inversione di polarità da corti circuito sovraccarico e tanti altri sistemi di sicurezza che ci garantiscono che non possa accadere nulla di pericoloso nel suo utilizzo ovviamente però attenetevi sempre a ciò che è scritto nel manuale di istruzioni soprattutto nella sezione sicurezza adesso utilizziamolo come power bank proviamo a ricaricare questo cellulare collegando direttamente lo spin 8 per poter avviare la carica sarà necessario prendere il tasto mod ovviamente dopo aver espostato suon il tastino scorrevole sulla parte bassa quindi premiamo mod già è messo in modalità usb e si avvia la ricarica ora facciamo un'altra prova testiamo la luminosità del pannellino a led sulla parte frontale non c'è buio pesto lo sto facendo appositamente per simulare una situazione in cui ci sia penombra ma dobbiamo cambiare la gomma dell'auto dobbiamo fare assistenza controllare all'interno del vano del motore oppure dobbiamo gonfiare le gomme quindi premo il tasto mod dopodiché la accendo e come vedete la luminosità emessa e grandangolare quindi ci permette di poggiarlo possiamo illuminare sia in alto che lateralmente riusciamo a lavorare tranquillamente vedendo bene tutto ciò che abbiamo di fronte più mi allontano più riesce a illuminare in modo grandangolare adesso voi non riuscite a vedere ma va o ben oltre l'inquadratura sia a destra che a sinistra con un angolo quasi di 180 gradi come potete vedere riesce ad illuminare perfettamente quasi a 180 gradi vista questa caratteristica quindi andiamo in esterno e proviamo a gonfiare le gomme dell'automobile per quanto riguarda invece il test di avviamento della macchina con la batteria scarica utilizzandolo come jump starter sono delle riprese vecchie di circa un mesetto fa e coincidono con una recensione che ho fatto di un tester per batterie in quell'occasione visto che stavo sostituendo la vecchia batteria scarica con una batteria appena acquistata ne ho approfittato per testarlo adesso andiamo davvero e mettiamolo alla prova e allora ragazzi ho collegato già la valvola al tubo come vedete mi viene riportata la pressione interna quindi 1.9 bar non la scarico tutta pure perché ritengo inutile questo tipo di test solitamente a questo tipo di compressore si utilizza per regolare la pressione non per cambiare delle gomme che siano completamente a terra quindi adesso l'avvio dopo aver impostato ovviamente la pressione quindi adesso abbiamo all'interno 1.9 bar imposto a 2 e 2 e do l'ok ok quindi ha raggiunto inizialmente 2.3 oscillava fra 2.3 e 2.1 e si è fermato allora facciamo un'altra prova mi sono reso conto che è stato abbastanza veloce quindi ho sgonfiato ulteriormente le gomme e proviamo a fare una prova per vedere quanto tempo impiega per ricaricare la gomma lascerò il misuratore dei decibel è un pochettino distante sappiamo che l'ambiente dovrebbe essere diverso però ci possiamo rendere conto del rumore che emette allora quindi abbiamo 1.6 bar impostiamo 2.2 nel frattempo sta iniziando a piovere diamo l'ok ok si è fermato nuovamente a 2.1 e abbiamo ancora la batteria al 92 per cento avendo fatto già due prove di compiaggio e allora ragazzi sono appena tornato dalla prova in esterno come avete visto riesce a gonfiare le gomme dell'auto in circa un minuto e mezzo due minuti è riuscito a portare la pressione da 1.6 a 2 1 2 2 verificherò con il manometro purtroppo non ce l'ho qua con me ma vi lascerò in sovraimpressione poi la pressione riportata anche dal manometro per vedere se corrisponde a quella del display per quanto riguarda il jump starter quindi l'avviamento della macchina le riprese sono di un mesetto fa avete visto che riuscite ad avviarla senza nessun problema per quanto riguarda il gonfiaggio la stessa cosa questo però secondo me è un dispositivo che va utilizzato in caso di emergenza nel caso in cui siamo in viaggio ci accorgiamo che la gomma è un pochettino più sgonfia e allora diamo una pressione per sistemarla e poi andiamo a verificare la prima area di servizio oppure dal primo commista che becchiamo per strada in modo da essere sicuri che la pressione sia corretta però per quanto riguarda l'utilizzo per esempio come powerbank ci dà diverse opportunità perché ha le due uscite usb all'uscita da questa parte per l'accendisicari quindi possiamo ricaricare o utilizzare per esempio piccoli aspirapolveri tutto ciò che si può collegare all'accendisicari dell'auto e quindi oltre a essere utile per quanto riguarda le situazioni di emergenza è utile anche per quanto riguarda il caricamento di vari dispositivi ve ne parlo bene perché l'ho testato e l'ho provato utri è un marchio anche quello che avevo comprato ovviamente mi ha soddisfatto ve ne ho parlato bene sapete che anche se me li mandano non sono costretto a parlarne bene ne parlo bene solo se i prodotti mi soddisfano e ritengo che possano essere utili e funzionanti anche per voi detto questo non mi resta che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mentre il video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto